Intanto per entrare nel merito di quanto chiedevamo, tutto quello che la Lega e le opposizioni chiedevano di introdurre nella legge di stabilità, ovvero una drastica revisione della riforma delle pensioni Fornero, l'abolizione degli studi di settore non ha trovato alcun tipo di spazio all'interno della norma che stiamo esaminando in Commissione Bilancio e che esamineremo in Aula. Questo lo riteniamo molto grave perché in un momento nel quale il Governo dovrebbe mettere in campo delle misure anticicliche che cerchino di ridare ossigeno ai nostri cittadini, alle nostre imprese, alle persone che vivono la crisi in questo Paese, fa l'esatto opposto, ovvero non riesce ad intervenire in modo incisivo con coraggio, il coraggio che serve, perché il coraggio non serve solo quello raccontato in televisione, ma poi non esercitato nei posti come il Consiglio dei Ministri oppure nella trattativa con l'Europa e su questo siamo estremamente delusi. Oltretutto tale inerzia e tale non presenza del Governo si scontra invece con una presenza massiccia di Renzi e dei suoi sodali nel aiutare gli amici degli amici. Renato ha citato qualche caso, mi ricordo il caso del Maxi che esce dalla Spending Review. Premetto, noi abbiamo chiesto per esempio tra i nostri emendamenti la salvaguardia delle donne che volevano o avevano optato per opzione donna. L'unica salvaguardia che ci è stata da Renzi è stata per le donne di Renzi. Parlo del Maxi, escluso dalla Spending Review con la Melandri, per quanto riguarda l'Enit, escluso dalla Spending Review e per quanto riguarda ovviamente la questione banche con la Banca di Etruria e le donne di cui parlo la conoscete bene. Per non parlare di altri emendamenti che siamo riusciti ad esclusere dove venivano dati, esclusi dalla Spending Review, fondazioni, associazioni dove guarda casa non c'erano parenti, amici, mogli, figli di parlamentari del Partito Democratico. Questo non è soltanto nel merito ovviamente, ma anche un messaggio drammatico che viene lanciato al Paese. Uno più è vicino al sole, più può muoversi liberamente, quando invece una persona è libera, semplicemente vuole fare in modo onesto il suo lavoro, bene viene massacrato dallo stesso governo. Non sto dopo a citarvi varie parti della legge di stabilità dove per quanto ci riguarda è una legge di stabilità illegittima e se viene impugnata potrebbe tranquillamente decadere. Perché quando nella legge di stabilità si usa la legge di stabilità per proporre e far approvare norme ordinamentali, vuol dire che si propone una legge che è contro il sistema stesso della legge di stabilità. Renzi evidentemente è convinto che può agire indisturbato al di fuori di qualsiasi regola, quando ha da tutelare particolari interessi. E particolari intendo particolari, non è un termine usato a caso. E quindi per quanto ci riguarda la lotta sarà tutto campo, una lotta ovviamente anche sulle banche e tema di discussioni di questi giorni, dove questo lo dico per quanto ci riguarda vediamo con favore la sfiducia al Ministro Boschi. Ma riteniamo, e quindi la vediamo con favore, ma comunque non pensiamo che la responsabilità sia solamente sua. Esiste una responsabilità di governo, una responsabilità del Presidente del Consiglio a cui non può sottrarsi. A cui non può sottrarsi perché quando vengono approvate delle norme così feroci contro i risparmiatori e così tenue contro invece chi è responsabile di queste truffe, Ebbene, un problema c'è, ed è un problema non verso la Lega, non verso le opposizioni, non verso Forza Italia o Fratelli d'Italia, ma verso il Paese e verso i cittadini di questo Paese. Noi domani, in question time, e chiudo il mio intervento, chiederemo al Ministro Padoan se il decreto legislativo 180, approvato dal Consiglio dei Ministri, e vorrei sapere, e questo non sono in grado di saperlo, se rappresenta il Ministro Boschi o no, esclude gli amministratori dalla possibilità di divarsa diretta dei risparmiatori. Se fosse così, la situazione si aggraverebbe ancora di più, e anche per chi l'ha votata. Ci auguriamo così non sia, la norma è estremamente complicata, domani lo chiederemo esplicitamente a Padoan, che faccia chiarezza, perché un dubbio del genere, che può rimanere evidentemente, non lascia più margini di azione da parte di questo Governo, perché sarebbe ovviamente un Governo, non soltanto illegittimo, perché non votato da nessuno, ma anche un Governo che evidentemente non è a rappresentare la totalità degli interessi di questo Paese, ma la specificità degli interessi di alcune aree. Grazie Max Federica. Fabio Rappelli.